Cleos è un sistema di gestione delle pratiche progettato da avvocati per gli avvocati. Contiene tutto ciò che serve per gestire le pratiche in modo completo e semplice. Tutte le informazioni inserite in Cleos sono conservate nella massima sicurezza sul cloud. Con una licenza è possibile accedere a Cleos su diversi computer e accedere ai dati utilizzando qualsiasi terminale. Il primo passo per accedere a Cleos Web è collegarsi al seguente indirizzo, cleosapp.com. La schermata di accesso contiene tre campi, studio, nome utente e password. Utilizzare le informazioni fornite da Walter Skluver per accedere al software. L'account sarà bloccato automaticamente se si cerca di accedere con una password errata per più di 5 volte consecutive. Il contatore dei tentativi di accesso falliti si azzera ogni volta che si accede al software. Cliccando su Hai dimenticato la password verrà inviato al proprio indirizzo email un link per resettare la password. Inserendo il flag su Rimani collegato sarà possibile mantenere la connessione attiva per un giorno. Si può accedere a Cleos su quante macchine si desidera, ma non si può utilizzare la stessa utenza di Cleos su più macchine contemporaneamente. Se si cerca di collegarsi a Cleos da due computer diversi, utilizzando lo stesso nome utente, il primo computer viene disconnesso quando il secondo si collega. Dopo aver inserito le credenziali, cliccare su Accesso. Al primo collegamento verrà richiesto se configurare autenticazione a doppio fattore per il proprio account e verranno mostrate le istruzioni. E' necessario scaricare un'app di autenticazione a doppio fattore come Microsoft Authenticator o Google Authenticator. E' poi necessario scannerizzare il codice QR o inserire il codice in rosso mostrati a video sull'app sul proprio smartphone. Una volta scannerizzato il codice QR o inserito il codice, l'app di autenticazione a doppio fattore genererà in automatico un passcode unico che si rigenererà ogni 30 secondi. Sarà necessario da questo momento in poi inserire il passcode ad ogni accesso, recuperandolo in app. A seguito della prima configurazione, sarà possibile scaricare le chiavi di backup da utilizzare in caso il passcode non sia più recuperabile in app. Al primo accesso, la dashboard sarà vuota. Questa permette di mostrare informazioni personalizzate includendo fino a 5 widget, ognuno dei quali relativo a un'area specifica di CLEOS come per esempio fascicoli recenti, la mia agenda, timesheet, adempimenti e incarichi. Gli elementi in blu sono collegamenti per testuali che apriranno l'elemento. In alcuni widget è possibile impostare filtri. Il tasto più permette di aggiungere velocemente un elemento. La freccina permette di essere reindirizzati alla relativa sezione principale. La barra blu a sinistra dà accesso alle funzionalità principali, come fascicoli, documenti, agenda o parcellazione. La barra in alto a sinistra consente di avviare una ricerca globale su tutti gli elementi. Questa include la ricerca a full text sui documenti. La barra in alto a sinistra consente di eseguire azioni rapide in ogni sezione di CLEOS, come per esempio recenti, permette in qualsiasi momento di accedere ai fascicoli e ai documenti consultati o modificati di recente. Il tasto più aggiunge nuovi elementi, come fascicoli, documenti o appuntamenti. Avvia timer permette di utilizzare un cronometro che calcola il tempo trascorso con un cliente e permette di creare timesheet o appuntamenti. Il tasto avvia timer permette di utilizzare un cronometro che calcola il tempo trascorso con un cliente. Permette di creare timesheet o appuntamenti. Cliccando su aiuto e info è possibile rivisualizzare i tutorial, anche quelli scartati precedentemente, ottenere informazioni sull'assistenza come numero di telefono e orari di apertura, o pianificare una chiamata da parte del desk, o vedere annunci, come per esempio eventi, nuove funzionalità in arrivo o suggerimenti. È possibile cliccare sull'icona della campanella per accedere alle notifiche. Il cartellino rosso sopra la campanella indica il numero di notifiche in sospeso. Le nuove notifiche compaiono qui e popolano l'elenco quando si sta avvicinando alla data di un evento, come un appuntamento o un'udienza, una scadenza assegnata ad un altro collega di studio è stata adempiuta, un documento è stato correttamente importato o salvato dopo una modifica, o ti è stato assegnato un nuovo incarico. Cliccando su Configurazioni studio nella barra laterale sinistra è possibile procedere alle configurazioni iniziali propedeutiche all'utilizzo di CLEOS. Si raccomanda vivamente di configurare le informazioni di base dello studio, quali per esempio nome dello studio, indirizzo e membri. Queste informazioni sono utilizzate per personalizzare documenti e comunicazioni con i clienti e con le parti di ciascuna pratica. Per configurare le informazioni sullo studio, nella sezione Generali, in Configurazioni studio, cliccare sulla denominazione per definire i dati di base. CLEOS creerà un'identità e la utilizzerà per identificare lo studio. Questa identità sarà legata in modo permanente al vostro studio legale in CLEOS. Tuttavia, potrete modificare i dati in qualsiasi momento. Si raccomanda vivamente di includere tutti i dati rilevanti dello studio, come nome, indirizzo, ragione sociale e partita IVA. E' possibile inserire anche il logo dello studio. CLEOS potrà poi utilizzarlo per personalizzare i vostri documenti. Per includere il logo, cliccare su Modifica foto, sulla scheda generale. CLEOS può utilizzare i formati immagine più diffusi come JPEG, PNG e Bitmap. Per creare, modificare o disattivare membri di studio, è possibile accedere alla scheda Colleghi di studio nella sezione Studio. Sarà presente un'anagrafica, denominata Amministratore CLEOS, che è necessario procedere a modificare inserendo i dati del membro di studio principale. In fase di creazione dei membri di studio, cliccando su Nuovo collega di studio, è possibile assegnare delle credenziali di accesso, nome utente, email su cui ricevere eventuali link di reset password e password di accesso. E' inoltre importante verificare il numero delle licenze. Ricordate che si può utilizzare CLEOS su quanti PC si desidera, ma non si può utilizzare la stessa licenza di CLEOS su più di una macchina per volta. Il numero di utenze limita il numero di membri di studio che possono avere credenziali di accesso associate. Cliccando su Crea collega di studio, è possibile procedere. Una volta modificata l'anagrafica dell'amministratore e create le anagrafiche dei membri di studio nella sezione Colleghi di studio, spostarsi nella sezione Licenze. Sarà necessario attivare i moduli interessati per ciascun utente. Questa finestra di gestione del contratto permette di assegnare o rimuovere la licenza per ogni singolo membro di studio dal tasto Modifica e contiene le informazioni sul numero di licenze disponibili e le date di scadenza di ciascuna. È possibile visualizzare anche il proprio contratto cliccando su Visualizza contratto. Per poter procedere all'utilizzo del modulo Parcellazione è necessario creare un'entità fiscale associata al relativo membro di studio ed un'area contabile associata all'entità. Per creare l'entità fiscale è necessario aprire la sezione Soggetti fiscali nella scheda Parcellazione in Configurazioni studio poi cliccare su Nuovo soggetto fiscale Ricercare o creare il soggetto da associare all'entità e cliccare su Crea Spostarsi nella sezione Contabilità per creare l'area contabile Cliccare su Nuova contabilità Inserire i dati obbligatori richiesti tra cui l'entità fiscale appena creata Cliccare su Salva contabilità In Anni fiscali e giornali Cliccare su Inserisci anno fiscale Impostare le date di inizio e di fine dell'anno fiscale da configurare Al termine cliccare su Inserisci Successivamente creare un giornale associato all'area per ogni tipologia di documento che si andrà a gestire in Cleos I giornali sono necessari per l'assegnazione di una numerazione progressiva per Proforma Vendite e Note di credito Al termine cliccare su Crea giornale Ritornare su Generali e cliccare su Salva contabilità Per configurare un'intestazione sui documenti generati di fatture, proforma o note di credito è necessario spostarsi nella sezione Fogli di stile nella scheda Documenti in Configurazioni Studio Tra i modelli presenti sarà disponibile una carta intestata di default Cliccando sui tre puntini in corrispondenza cliccare su Duplica Successivamente inserire i dati della carta intestata da configurare salvandola nella cartella parcelle Confermare cliccando su Duplica Una volta salvata, aprire il file da Cleos cliccando su Edit Ne verrà richiesta apertura tramite Cleos Assistant Se è la prima volta che si utilizza Cleos Assistant verrà richiesto l'inserimento della password di Cleos Si aprirà automaticamente un documento Word in cui sarà necessario inserire la propria carta intestata È fondamentale non cancellare il comando Content Chiudere e salvare il file Per impostare coordinate bancaie nella propria anagrafica personale è necessario cliccare su Modifica in corrispondenza del proprio nominativo nella sezione Colleghi di studio all'interno della scheda Studio Nella sezione Generale dell'anagrafica cliccare Inserisci conto corrente All'interno dell'accordion conto corrente Inserire i dati richiesti Inserire i dati richiesti e cliccare su Salva persona Per configurare l'account di posta elettronica aprire le mie preferenze Nella scheda Documenti ed e-mail aprire la sezione Account e-mail pack Selezionare l'opzione Inserisci In questo caso è necessario selezionare il proprio provider di servizi di posta elettronica o procedere a configurazione manuale Dopo aver cliccato su Prossimo Inserire i dati di configurazione forniti dal provider o se in fase iniziale ne è stato selezionato uno preconfigurato appariranno automaticamente quelli predefiniti Una volta verificata la connessione è possibile iniziare a utilizzare l'account di posta da Cleos È possibile aggiungere tutti gli account di posta elettronica necessari ma solo uno può essere definito come account principale Per l'invio delle e-mail sarà utilizzato l'account principale salvo che si decida di utilizzarne un altro manualmente È possibile inserire integrazione a OneLegale cliccando su OneLegale nella barra in alto In automatico si verrà reindirizzati alla pagina di accesso a OneLegale Inserire le credenziali e cliccare su Entra Da questo momento in poi, cliccando su OneLegale nella barra in alto in Cleos in automatico si aprirà la pagina della banca dati con una sessione già aperta sulla propria utenza